Come potrete immaginare da sindaco della città dove sono nato e che adoro, è da un po' di tempo che c'è un po' di tensione per vivere il progetto di Mugio, un progetto che potrebbe cambiare radicalmente la città che vivo, che adoro, che amministro ed è evidente che sia molto sensibile. Pochi giorni fa, due giorni fa se non erro, leggo un comunicato stampa del PD locale che ha fatto assieme al sindaco di Varese e ci sono rimasto male. Questo comunicato stampa era in relazione al fatto che volessero delle garanzie da parte del governo che i fondi PNRR siano veramente in arrivo per la regione Lombardia per il bene degli sportivi lombardi. Ed era firmato da Patrizia Lissi, capogruppo del PD, e da Varese, dal sindaco di Varese, che è del PD. Quindi come PD si sono mossi per dire, ehi governo stai mandando i fondi in regione Lombardia. Mi sembra una scelta responsabile. Ciò che invece trovo irresponsabile da parte di Patrizia Lissi e da parte del PD è il fatto di fare comune con un comune, che è Varese, che sta cercando di portare sul proprio suolo, oltre a una pista di ghiaccio che è già nuova e che dice essere all'avanguardia europea, con grande festa, con il Presidente della Repubblica, il Presidente di regione, tutti quanti. Quindi ha serenamente detto che per i prossimi 30 anni non hanno problemi nello sport del ghiaccio. Il capogruppo di Como firma un comunicato con il sindaco di Varese, semplicemente parlando di benessere degli sportivi lombardi. Non pensando al fatto che in verità il sindaco con il quale stava firmando è già a posto per i prossimi 30 anni, avrebbe dovuto farlo semmai come PD di Como per Como. Io ho mandato anche una lettera al PD di Como, ehi, remiamo tutti nella stessa direzione, Como ne ha bisogno. Guardate che casate alle ore contate, che a breve potremmo essere nella condizione di non garantire più di sport del ghiaccio a Como. E il PD di Como cosa fa? Va a firmare un documento con il sindaco di Varese dicendo per il benessere dei lombardi, non capendo che la richiesta, o meglio capendo, ma fregandosene probabilmente perché sono della stessa famiglia, quindi o forse magari al PD di Como darebbe anche soddisfazione che andassero a Varese e non a Como perché li amministrano e qui no, non lo so come ragionino, perché se no non capisco quale sia il motivo di questa comunella. Morale, cosa sto chiedendo con questo video al PD di Como? Una cosa semplice. Visto che siete dello stesso partito, visto che vi conoscete, visto che avete gli stessi dirigenti a livello regionale, il PD di Como dovrebbe fare solo una cosa, chiamare il sindaco di Varese e dirgli ehi, guarda che noi del PD, dovrebbe dire lei, immagino che ci creda, siamo persone per bene ed essendo persone per bene non ha senso la tua richiesta di portare un altro palazzetto, un centro tecnico federale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio a Varese, visto che hai già un palazzo magnifico, ritira la candidatura perché quel palazzo serve a Como. Ecco, questo io mi aspetterei da un partito che alle ultime elezioni è arrivato al ballottaggio che immagino abbia a cuore Como, cioè semplicemente che il PD di Como dica il PD di Varese di ritirare la candidatura e non di parlare di benessere di sportivi lombardi, perché se Varese dovesse essere assegnataria di quel palazzo nuovo, semplicemente non cambierebbe nulla, non avrebbe nessun benessere, anzi farebbe un danno economico al nuovo palazzo che hanno realizzato, che non avrebbe sufficienti atleti per poterlo far funzionare. Sarebbe solo un danno e sarebbe anche un utilizzo delle risorse del PNR sballato e forse sarebbe meglio che se dovesse andare a Varese non ci arrivino proprio quelle risorse del PNRR, perché andremo a creare un eccesso di offerta che non servirebbe a nessuno. Quindi, caro PD di Como, io mi auguro che ti stia remando nella direzione giusta, cioè in favore della nostra città, e l'unica cosa che puoi fare, l'unica cosa che devi fare e che ti ho chiesto con la mia lettera è semplicemente dire che quei fondi devono arrivare a Como perché a Varese non servono. E visto che avete il vantaggio di avere il sindaco di Varese che è proprio del PD, io mi aspetto che tutto il PD di Lombardo chieda al sindaco di Varese di ritirare la richiesta di quei fondi. Tra l'altro a Como abbiamo la condizione perfetta, abbiamo le ferrovie a due passi, riuniremmo tre quartieri, Camerlata, Muggiò e Albate, daremmo valore a 60.000 m2 di suolo Lombardo. Ecco, Patrizia Lissi, quando parli di sport, dire che possono servire quei fondi a Varese è una bestemmia, non deve proprio esistere. L'unica cosa che devi dire è che quei fondi devono arrivare a Como e l'unica cosa che devi dire è al sindaco di Varese di ritirare la candidatura. Così sì che faresti il bene di Como e così sì che io ti sarei grato. PD di Como, non fare la scelta sbagliata, almeno questa volta.